Ciao a tutti ragazzi! Come va? Spero bene! Oggi scontrerò mo' Gioela perchè lui si sente così forse ma è ultra nabbo ragazzi è ultra nabbo non vi preoccupate che è ultra nabbo non è vero Gigi? perchè poi se mi fai incacchiare ti picchio a skill, capito? ok, ho capito è io pure ah grazie per la kill no, è finta di generale allora, stiamo 1 a 0 ok ok sei zitto! allora è proprio scusa ok 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 no 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 ok non non Grazie a tutti Will you do self coraggio? I am coming no No Poi scrive STAY ZITO Oddio Mi stanno lagando Senza non stai capendo Viene Sì, non c'è nessuno. ma che me ne frega non me ne frega un capo quante chi l'hai? 7 se vabbè quante chi l'hai? 2 allora vediamo facciamo l'ultima questa è l'ultima bravi capito niente ma vabbè basta è l'ultima 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 Grazie.